Buongiorno a tutti i compagni e compagni, vi porto i saluti più calorosi da parte di Unità Popolare e da DEA. Vi ringrazio per l'invito a partecipare a questo incontro e mi scuso per il mio inglese. Ieri i leader europei hanno celebrato i 60 anni dai trattati di Roma che hanno gettato le basi per la Unione Europea che conosciamo oggi. Nonostante la propaganda borghese e le illusioni dell'europeismo di sinistra per il carattere presuntamente progressista dell'Unione Europea, l'unificazione europea è stata e resta una macchina da guerra per gli interessi del capitale europeo, imperialista all'esterno e dal carattere sfruttatore all'interno. Si tratta di una santa alleanza dei capitalisti europei necessaria sia per la competizione con altri centri forti e sia per l'attacco, diciamo un attacco quanto più efficace possibile delle classi possidenti europee contro i traguardi raggiunti dai lavoratori europei nel secondo dopo guerra. Cercherò di dimostrare quanto dico con esempi tratti dall'esperienza greca in quattro punti. Il primo punto, le politiche europee sono una barriera assoluta a ogni tentativo di rovesciare dell'austerità. L'esperienza greca nella primavera e nell'estate del 2015 penso che lo abbia provato ampiamente. Cipras e il suo governo hanno l'illusione di fare un compromesso onestico con i leader europei. Inoltre, a parte di qualsiasi processi istituzionalizzati, l'europeano centrali banche in quattro punti. Cipras e il suo governo avevano l'illusione di poter raggiungere un compromesso onesto, tra virgolette, con i leader europei. Invece, non c'è stato nessun, alcun processo diciamo istituzionalizzato, o comunque relativo alle istituzioni, al compromesso onorevole con le istituzioni. La Banca Centrale Europea ha tagliato la liquidità finanziaria alle banche greche, forzando Cipras e il suo governo a scegliere, tra il conflitto e quindi il rifiuto di pagare il debito o la piena capitolazione. Oggi sappiamo tutti che il governo Cipras ha scelto la seconda opzione e ha implementato, diciamo applicato, un terzo memorandum pesantissimo per le classi popolari. These days they are preparing the next retreat, cutting with taxes about a month wage from the lower incomes In questi giorni il governo Cipras sta preparando un'ulteriore capitolazione, tagliando per mezzo dell'imposizione fiscale, l'equivalente di un mese di salario medio dai redditi più bassi. E per la tredicesima volta taglieranno le pensioni, questa volta di un circa il 20% ulteriore. Proveranno a ricavare un miliardo di euro dal taglio dei salari per mezzo dell'imposizione fiscale, un miliardo di euro dal taglio delle pensioni. They put taxes in one worker who has 600 euros per month, they take from him 550 euros. Can you repeat the last one? One worker who has per month salary 600 euros, they will put taxes on him more 550 euros. Per un lavoratore che abbia un salario medio di 600 euro mensili, ci sarà un aggravio fiscale annuale di 500 euro, quindi sostanzialmente un mese di salario in più. And they will make lower the taxes for the companies, industries and the rich people. E abbasseranno l'imposizione fiscale alle aziende, alle industrie e ovviamente alle classi più ricche, insomma, alle persone più ricche. E questo è il governo di sinistra di Tsipras. Ok, we go back. All this, it shows that they don't care about any formal institutions in European Union, just what they want to make. Ripetit this, please. All this example shows that they don't care about any laws or institutions, but only to implement their policy, to take money from the government? The European Union. Ok, dice chiaramente, questo dimostra chiaramente che l'Unione Europea non ha nessun tipo di interesse né per le sue stesse leggi né per un processo sociale, ma quello che l'interessa è mettere in pratica le sue politiche predatorie. The same goes for democracy issues. We all know the results of the July 2015 referendum. 62% voted not to accept the agreement with the Troika, IMF, European Central Bank and Commission. But the next day, they accepted and they don't care what the people vote in the referendum. Lo stesso discorso vale per le questioni democratiche. Sappiamo tutti il risultato del referendum del luglio 2015. Il 62% della popolazione votò per non accettare l'accordo con la Troika, cioè il Fondo Monetario, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea. Ma il giorno successivo il governo accettò. Ok. They don't care about any constitution, even in the former sense of popular sovereignty. It is well known that the Greek government has neither control of the budget. Any decision must have the approval of the Troika. Non hanno mostro alcun interesse per la Costituzione, neanche nel senso di una sovranità popolare formale. Sappiamo bene che il governo greco non ha neanche il controllo del bilancio. Tutte le decisioni devono essere approvate dalla Troika. Similiari, they face social and labor rights. For example, they require foreclose the third assessment to allow to increase redundancy from 5% to 10% monthly on business and companies. Redundancy lay-off? Lay-off. Allo stesso modo possiamo parlare dei diritti sociali del lavoro. Ad esempio, verrà richiesto, per chiudere il terzo accordo, di aumentare i licenziamenti dal 5% al 10% mensile per diversi settori industriali e aziendali. E questo in una società che ha già il 30% della disoccupazione ufficiale e il 50% della disoccupazione giovanile. Vogliono anche cambiare la legge che regola, diciamo, gli scioperi. Oggi uno sciopero è deciso in Grecia dalla maggioranza degli aderenti a un sindacato. La Troika chiede che sia invece deciso dalla maggioranza dei lavoratori o degli impiegati o degli operai che lavorano in un'azienda o in un'industria, anche se non sono membri del sindacato. Immaginate quanto sia difficile proclamare uno sciopero in questo modo. E tutto ciò descrive, bene, quanto stretto sia il quadro in cui ci muoviamo. Il problema qui è come rompere questo quadro. Per la sinistra anticapitalista europea la questione principale è rovesciare le politiche di austerità. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno, diciamo, di conflitto. E questo apre la discussione anche sulla questione dell'uscita dall'euro. E questo è il secondo punto che tratterò. Cioè, quello che noi intendiamo per l'uscita dall'euro e dall'eurozone. Ovviamente l'uscita dall'euro è un punto di più ampio programma transitorio che contenga il rovesciamento dell'euro. L'austerità e dei memorandum, la socializzazione delle banche, la cancellazione del debito e ovviamente l'uscita dall'eurozona. La prospettiva di questo programma è la liberazione socialista della società. Ma questo non è un punto ideologico perché è un elemento direttamente politico che proviene direttamente dalla questione delle alleanze sociali. Questo programma può essere applicato solamente da un'alleanza, diciamo, dei partiti, dei lavoratori. E questo si configura in un fronte della sinistra anticapitalista radicale. Noi non siamo d'accordo e combattiamo contro coloro che percepiscono l'uscita dall'eurozona come un ritorno a una sorta di nazionalismo antiimperialista che prova a mettere il paese fuori dalla crisi e a salvarlo in questo modo. Questa distinzione è importante perché ci differenzia anche dal blocco, diciamo, borghese di protezionismo economico e nazionalismo che conduce anche al razzismo. Vediamo questa opzione nei nostri nemici mortali come Trump o Le Pen. Il mio terzo punto è simultaneamente, la nostra posizione difficile contro il nazionalismo particolarmente riuscita la necessità di un ritorno con le classi lavoratori e le persone della Turchia. Noi non importa quale riuscita è l'Ordogan riuscita, il problema è che la crisi riuscita tra la Grecia e la Turchia. Allo stesso tempo la nostra dura posizione contro il nazionalismo solleva particolarmente un bisogno di fratellanza con le classi lavoratrici e il popolo turco. Ovviamente non parliamo del regime, chiaramente, di Erdogan, ma questa posizione che noi assumiamo è una precondizione dall'uscita dalla crisi nel Mediterraneo orientale. Dobbiamo iniziare con il rigetto della politica degli armamenti e con ogni sacrificio che conduca a una guerra contro la Turchia. Tsipras e il suo governo seguono una dura politica pro-atlantica. Hanno fatto un'acciaio con la Grecia, Cyprus, l'Israele e la dittatura egiziana. Tsipras e il suo governo seguono una dura politica pro-atlantica. Hanno stipulato un asse con Cipro, Israele e la dittatura egiziana. Probabilmente avete visto le foto che raffiguravano l'abbraccio di Tsipras e Al-Sisi, che è un'assoluta vergogna. Hanno addirittura migliorato le installazioni militari di Tsipras a Creta e a Carpathos. Ovviamente questa politica guerra fondaia non sarà accettata dalla Turchia e questo aumenterà il pericolo di guerra. Quarto punto. C'è però un'altra Europa che si scontra direttamente con i governi, che applicano il programma di austerità e che hanno costruito l'Europa fortezza. è l'Europa delle decennate di mille, che dimostrava nel 18es di Marce, nel Atene, in Madrid, in Londra, in Lecoccia, in Tsipras, etc. è l'Europa delle decennate di migliaia che hanno manifestato il 18 di Marzo, nel giorno internazionale contro la guerra del razzismo, ad Atene, Madrid, Londra e Cipro contro la guerra del razzismo. è l'Europa dal basso, l'Europa delle lotte, della solidarietà, l'Europa internazionalista, dei movimenti e della sinistra, che si batte per i diritti dei lavoratori e dei rifugiati. l'Europa dei lavoratori e della sinistra, che lotta contro la guerra e la povertà e contro il razzismo. L'alleanza di questa resistenza è l'unica speranza e l'unica alternativa che abbiamo nello scontro contro l'Europa dei capitalisti e l'Europa imperialista. E' una strada molto difficile, avete visto tutti che in Grecia abbiamo avuto in passato una grande opportunità. Cipro e la maggioranza dei deputati hanno gettato alle ortiche questa speranza. Adesso abbiamo problemi in tutta Europa, eccetto forse in Spagna, il compagno Andreu ci dirà dopo. Probabilmente sarà la prossima opportunità, la prossima occasione che avremo in questa lotta. È una lotta che continuerà e nonostante tutte le difficoltà in questo stesso scontro, sono certo che noi vinceremo. Grazie. 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 Grazie.